salve a tutti oggi facciamo l'analisi dei video esplicativi di mike vassallo o michele vassallo earth majord chiamatelo come vi pare sempre la stessa persona è come sapete mike vassallo ha fatto questo libro fantasy francamente non mi viene altro modo di definirlo perché è un una robetta piena di fantasie e lucubrazioni mentali di michele vassallo senza uno straccio di verifica un modello predittivo prendiamo il titolo ad esempio le vere misure della terra piatta ma è totalmente forviante perché se per sbaglio vi capita sotto mano questo blocco di carta stampata non ci troverete uno straccio di misura uno straccio di verifica una mappa con delle una mappa che funziona una una un modello predittivo di qualche legge inerente alla terra piatta zero solo e lucubrazioni mentali e affermazioni spacciate per dimostrazioni e quindi siccome questo libro fondamentalmente non ha senso mike vassallo si affanna con questa serie di video per cercare di spiegare l'inspiegabile cioè che cosa lo abbia fatto a fare mike vassallo ha fatto una serie di video a compendio di questo fantastico libro questo questo è il secondo video della serie il primo lui perde tempo nel trastullarsi con con l'indice degli argomenti quindi ho deciso di saltarlo a pie pari sentiamo che cosa dice buongiorno da earth measured continuiamo con la nostra serie di video che hanno la finalità di andare a spiegare meglio questo libro che evidentemente non è proprio accessibile per tutti cogliete leofenismo involontario c'è gli è venuto una battuta involontaria che questo libro non è accessibile a molti non è per tutti in realtà non è per nessuno perché non dice nulla di nulla di utile come già detto sono solo fantasie di avanti così la volta passata siamo andati a dare un'occhiata all'indice ora vorrei iniziare a considerare il primo capitolo la terra non si muove in cui si vanno a vedere alcuni concetti fondamentali per capire come si possa dimostrare il fatto che la terra non si muova va bene saltiamo la prefazione e l'introduzione vedete qua si parte subito con corioli il capitolo è questo la terra è immobile però prima di partire a fare questa considerazione sul fatto che la terra è immobile vorrei esaminare un concetto che purtroppo non ho inserito nel libro cosa volete le idee non vengono sempre tutte subito grazie grazie maic grazie che ci stai facendo questi video per per darci queste queste perle che ti sono mancate nel momento della creazione però è un concetto importante cioè nel momento in cui io vado a considerare il fatto che la terra è immobile la terra non si muove io in realtà sto dimostrando che la terra è piatta peccato che tu non dimostri nell'una nell'altra e questo è il problema fondamentale tu non dimostri né che la terra è ferma e né che la terra è piatta ma lo scopriamo insieme andiamo a sentire che dice le cose sono intimamente collegate e questo in realtà non si sente non ve lo dice nessuno ma se io dimostro che la terra è ferma sto dimostrando anche che la terra è piatta come mai questo? andiamolo a vedere è importante io ho visto per esempio un video di o di freddi in cui egli dica no tu mi stai dicendo che la terra è ferma e piatta no perché una cosa non implica l'altra ma questo o di freddi evidentemente non ha studiato non ha considerato bene le cose relative alla terra piatta vuoi mettere gli studi di o di freddi con quelli di mike vassallo stiamo proprio siamo proprio con mike siamo a livelli decisamente superiori chi può essere maio di freddi nei confronti di mike andiamo avanti per capire bene questo concetto con il quale voglio iniziare provate a considerare il fatto che va bene abbiamo capito come concetto come idea e lo abbiamo dimostrato che la terra è immobile cioè stai partendo già con l'idea che la terra è immobile stai dicendo bon lo abbiamo dimostrato senza dimostrarlo già inizia a marciare male lui inizia a costruire una un'argomentazione una successione logica partendo da un assunto non dimostrato ovvero lui dice che bon partiamo che abbiamo già dimostrato che la terra è ferma e quindi posso posso dimostrare che la terra è piatta ma non hai dimostrato che la terra è ferma l'abbiamo visto con con il pendolo di Foucault con girobussole giroscopi di tutti tutte le razze possibili e immaginabili meccaniche elettromeccaniche elettroniche e laser tutti questi dispositivi ci dicono che la terra non è immobile andiamo avanti quindi supponiamo che la terra sia un globo fermo immobile quindi ricadiamo nella teoria geocentrica quella per esempio di Tycho Brahe se avete studiato un pochettino di astronomia con un globo fermo devo andare allora a fare tutta una serie di considerazioni in relazione al sole il sole che a questo punto è lui che si muove è lui che orbita attorno alla terra quindi noi abbiamo la nostra terra un globo ok e abbiamo il sole che ha la sua orbita attorno alla terra vedete come l'ho disegnato l'ho disegnato piccolo perché se deve essere orbitante attorno ad un globo terrestre deve essere piccolo in quanto è un satellite questo naturalmente tenendo ferma è valida la legge di gravitazione universale di di Newton voi la conoscete cioè ci dice che la forza di attrazione di mutua attrazione tra due masse sarà data da meno perché si va a considerare il particolare verso di questa forza G che sarà la costante di attrazione gravitazionale universale per la massa del primo corpo per la massa del secondo corpo fratto la loro distanza che la chiamiamo con la lettera R elevata al quadrato quindi considerando valida questa formula considerando di aver dimostrato che la terra è ferma ma continua cioè ma capiamoci tu stai sfruttando la legge di gravitazione universale che di fatto è stata utile per cestinare definitivamente il modello geocentrico e adesso che cosa vuoi fare vuoi mantenere l'idea della terra ferma perché hai detto che l'hai dimostrato quando non lo hai dimostrato e poi alla fine che cosa fai andrai a cestinare la legge di gravitazione universale sì è quello che andrai a fare però questo non è non hai dimostrato che la terra è ferma l'hai assunto non hai fatto nessun tipo di dimostrazione se nella logica se parti da un assunto sbagliato puoi arrivare solo a conclusioni sbagliate non hai dimostrato in nessuna maniera che la terra è ferma e stai sfruttando la incongruenza della legge di gravitazione universale con il modello geocentrico che effettivamente ha rotto i ponti con quella idea di terra ferma con il sole che gli gira attorno ma è finita lì non la puoi giocare per usarla sulla terra piatta ma come si fa andiamo avanti andola a considerare come un globo siamo in una situazione del genere con un sole piccolo che orbita un po' come ci raccontano a proposito della luna orbita attorno alla terra però presa a questo punto questa idea andiamo a considerare un esperimento come quello che ha fatto Eratostene non puoi costruire una dimostrazione partendo spacciando un'assunzione per una dimostrazione e adesso che fai? ti sposti su Eratostene qualche cosa che non fa non aiuti in nessun modo a spiegarlo sentiamo un po' che cosa dice su Eratostene Eratostene qui va nel momento in cui il sole si trova esattamente sopra il tropico del cancro va a piantare un bastone a Siene e vede che i raggi del sole formano un angolo di 7,2 gradi rispetto al bastone e questo lo misura considerando l'ombra va a misurare l'ombra del bastone sì ma Eratostene non pensava mica che il sole fosse piccolo e vicino queste considerazioni qui non sono state fatte pensando alla meccanica non esisteva la legge di gravitazione universale non c'era nessuna considerazione del fatto che la terra dovesse essere piccola e vicina perché c'era una legge che praticamente dovesse funzionare in quella maniera lì per Eratostene il sole era distante e non lo sapeva nemmeno perché era distante quindi da dove escono fuori questi 7,2 gradi Eratostene dice che essendo i raggi del sole paralleli essendo la terra una sfera quei 7,2 gradi sono dovuti alla sfericità della terra e quindi lui è arrivato a capire che la terra ha una una circonferenza di 40.000 km ecco però che nel momento in cui io ho dimostrato che la terra è ferma e il sole quindi è piccolo è vicino Aridaie tu non hai dimostrato che la terra è ferma orbitante come potrebbe orbitare per esempio la luna attorno alla terra globulare ecco che i raggi non sono più paralleli perché il sole non è più a lontano 150 milioni di chilometri come ci raccontano non è più enorme proporzionalmente alla terra e quindi i raggi non sarebbero più paralleli come potrei allora spiegare questi 7,2 gradi potrei spiegarli solo con una terra piana a quel punto il sole piccolo vicino questo sia il tropico la linea del tropico del cancro il sole piccolo vicino ecco che rispetto al bastone piantato a Siena mi fa un angolo di 7,2 gradi certo ci sarebbe la possibilità di avere tutta una posizione intermedia di terre enormi molto più grandi di quella su cui siamo abituati a vivere e della la cui descrizione ci hanno insegnato a scuola però in una situazione del genere sempre mantenendo valida una formula la formula data da Newton dovremmo avere una forza gravitazionale molto più grande quindi nel momento in cui noi capiamo che la terra è immobile la terra a quel punto deve essere piatta per in conseguenza all'esperimento di Eratostene e la formula di gravità tac eccolo là dice che si è accorto che la terra è ferma ma lo ha assunto non l'ha dimostrato si è andato a prendere l'esperimento di Eratostene dicendo che praticamente questa cosa qui su terra piatta funziona ma in realtà non funziona adesso vi spiego il perché e di conseguenza cosa va a fare va a cancellare l'unica cosa che è dimostrata sperimentalmente cioè la legge di gravitazione universale cos'è che non va in questo in questo disegnino qui di di Eratostene su terra piatta la cosa che non va è che in questo contesto qui stai facendo una triangolazione del sole o presumi che si possa fare una triangolazione del sole perché nel momento in cui tu misuri un angolo e hai questo bel triangolo che hai disegnato vuol dire che tu potresti riuscire a individuare qual è la quota del sole le triangolazioni che si fanno sul campo con gli strumenti con le stazioni totali per fare triangolazioni si basano su questo principio se abbiamo un punto nello spazio e lo triangoliamo da diverse stazioni quel punto viene univoco gli angoli di elevazione e di azimuth dei vari strumenti devono tutti portarmi a far convergere i puntamenti verso un unico punto nello spazio questo su terra piatta non funziona se mettiamo un'altra stazione oltre alle due nell'esperimento di Eratostene riportate sulla terra piatta la terza stazione non darà un angolo che convergerà sullo stesso punto dei puntamenti delle altre due stazioni questo è stato fatto dimostrato ripetuto tantissime volte considerando la terra piatta non funziona l'unica cosa che funziona è che se misuro un corpo celeste da diverse latitudini verificherò che gli angoli che vengono fuori mi indicano tutte direzioni parallele così come i raggi paralleli ci arrivano dal sole nella stessa maniera quando puntiamo il sole otteniamo dei puntamenti paralleli e questo è assolutamente coerente con il modello di terra sferica con una terra rotante attorno al sole e con un sole estremamente lontano anche questo utilizzo improprio di Eratostene per dire vedete questa cosa in realtà se noi raddrizziamo la terra Eratostene dimostra che il sole è piccolo e vicino è fasullo non funziona ricapitolando questo tentativo maldestro da parte di Ertmejort di Michele Vassallo di partire con un'assunzione e abbiamo dimostrato che la terra è ferma che non è vero e l'utilizzo di Eratostene per dimostrare come consecuziologica che il sole è piccolo e vicino fa venire la pelle d'oca questa roba qui è totalmente sbagliata la logica la totale assenza di qualsiasi tipo di dimostrazione sentiamo la chiusura di Mike Vassallo di questo fantastico video gravitazione universale non è più valida ecco questo era un concetto fondamentale capite l'assurdità cioè facendo questo ragionamento bislacco è arrivata la conclusione che la legge di gravitazione universale non è più valida ma allora ci starà sul tuo bellissimo libro fantasy qual è la legge che mantiene il sole sospeso che ci dice qual è la massa del sole che ci dice qual è la dimensione del sole che ci dice a che altezza si trova che ci spiega qual è la legge che lo fa girare in circolo non solo in circolo che sale scende si allarga e si stringe durante le stagioni ce lo avrai un modello predittivo sul tuo bellissimo libro che dimostra che ci dà una spiegazione coerente di tutto questa roba qui ovviamente no ovviamente no non c'è nulla di tutto ciò non c'è nulla di misurato non c'è nulla di verificato non c'è nulla di dimostrato sentiamo le ultime le ultime cose che ci vuole dire Michele Vassallo un'idea che se avrò la possibilità nel tempo in futuro di scrivere un altro libro metterò nel prossimo libro nessuno ha mai menzionato questo concetto certo fai la saga dei libri fantasy tipo il trono di spade fai il secondo libro fantasy il continuo del primo libro ci aggiungi tutte le altre recuperazioni mentali che ti vengono che ti sei dimenticato di aggiungere su questo primo libro ma fai altro fai qualcosa di utile non imbrattare i libri con queste fesserie che però è importante come introduzione cioè se dimostro che la terra è ferma e ci sono decine di prove in quella direzione ma quando ma dove nella tua più fervida fantasia non c'è uno straccio di verifica che la terra è ferma come già detto ci sono dimostrazioni strumentali della rotazione della terra ci sono le osservazioni dei due poli celesti e delle stelle che ci girano attorno ed è anomalo pensare che tutto giri in questa maniera coerente invece ha più senso che siamo noi che stiamo sulla giostra che gira e vediamo tutti gli oggetti che sono relativamente nelle stesse posizioni e avanti sto dimostrando anche che la terra è piatta col prossimo video inizieremo invece a parlare proprio dell'accelerazione o della forza di Corioli un saluto a tutti non vediamo l'ora non vediamo l'ora di vedere questa questo nuovo video con la forza di Corioli bene penso di aver sviscerato e viscerato abbastanza nel dettaglio le 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 fantasie del giovane Michele che scrive libri fantasy per rallegrare le nostre giornate un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima un saluto